Possiamo definirla una trasformazione totale quella operata dall'ex marito di Gwendalina Tavassi, ovvero Umberto da Ponte, signori. Dopo aver affrontato il carcere, come letto anche dal titolo, in seguito alle denunce presente dalla donna, ora è tornato nuovamente a farsi vedere sui social e il cambiamento a livello fisico è veramente incredibile. Da parte dell'uomo sono state pubblicate un paio di foto che lo hanno ritratto in modo totalmente diverso rispetto al passato e ha anche scritto una dilascalia abbastanza scherzosa a testimonianza di una serenità in qualche modo ritrovata. Le accuse rivolte da Gwendalina all'ex marito erano state abbastanza gravi e ad essere coinvolto era stato anche l'attuale fidanzato dell'ex concorrente dell'isola ovvero Federico Perna. Quest'ultimo sarebbe stato aggredito nei pressi della scuola frequentata dal figlio di lei, Salvatore. Inoltre le porte della prigione si erano aperte per lui per non aver rispettato l'obbligo di divieto di avvicinamento a Gwendalina e quindi per questa ragione era stato tratto in arresto. Ora il cambiamento fisico di lui, molto evidente. Pare che l'ex di Gwendalina, Umberto, avesse violato il divieto di avvicinamento a 500 metri da lei il 19 gennaio scorso ed era stato quindi disposto di conseguenza il trasferimento a Rebidia. Attualmente sarebbe ai domiciliari ed è tornato a farsi vedere in maniera pubblica e la Tavassi comunque lo ha accusato di averla insomma picchiata in seguito a molte liti avute, quindi cose abbastanza pesanti. Ma vediamo come è diventato l'uomo e che tipo di cambiamento fisico ha avuto in questo periodo. Umberto innanzitutto è parso con molti chili in meno, questi subito visibili, con degli addominali straordinari e quindi la sua forma fisica è decisamente smaiante. E non è tutto perché oltre a puntare l'attenzione sul suo corpo, fatto vedere senza maglietta, si è potuta notare una trasformazione del look anche per quanto riguarda i capelli. Dimenticatevi quindi il vecchio Umberto visto tra mille e mille foto perché oggi l'ex marito di Gwendalina Tavassi sembra essere rigenerato e chissà quanti complimenti avrà ricevuto in privato dai suoi follower. Certo non è super fisico scolpito ma ci sta lavorando. Umberto in pratica si è presentato con i capelli ricci e un fisico straordinario per quel che può presentare in questo momento e ha commentato nelle Instagram stories e ha detto buongiorno da me e dal mio capello riccio. Wild! Non ci sono state reazioni da parte di Gwendalina Tavassi e non sappiamo se ce ne saranno o se preferirà attendere il famoso processo ai danni dell'uomo prima di dire altro su di lui. Per ora è tutto, non aggiungo altro, vi ringrazio per l'ascolto, come sempre è stato un piacere e rimanete informati, mi raccomando, vi aspetto su Pausa Caffè.